L'incompetente Boldrini invece di riconoscere i propri errori e la propria faziosità nel condurre l'Aula ha dato 15 giorni di sospensioni a me e all'On. Pini semplicemente perché ci siamo permessi di contestare la vergognosa conduzione d'Aula per quanto riguarda gli Ussoli. La sua posizione ideologizzata e partitica non può essere interpretata da chi ricopre il ruolo di Presidente della Camera. Noi continueremo la battaglia, potranno darci 15, 20, 30 giorni di sospensione ma la democrazia e anche le voci minoritarie all'interno di questo Parlamento ma maggioritarie all'interno del Paese non possono essere azzittite dalla Boldrini di turno.